Nell'iscrivervi a questo profilo laddove il calciomercato non lo si commenta ma lo si fa vi invito a devastare di like e vi dico anche una cosa che mi ero dimenticato di ricordarvi. Domani ore 21 da qui su questo canale live di calciomercato su tutti gli affari tutte le squadre in tempo reale rispondo alle vostre domande quindi segnatevi l'appuntamento in agenda attivate il campanaccio devastate di like e guardatevi i video precedenti poi magari in questi giorni faremo anche un video con il buon Fabio Bergomi con Fabio da Bergomi il capo di Milano va bene perché il king di Milano sarà anche Rommelo Lukaku ma il capo di Milano è solo Fabio Bergomi e lo saluto e faremo un video assieme ma in questo mio intervento voglio prendere il toro per le corna voglio parlare di inter prendendo il toro per le corna c'è la questione portiere la questione attaccante che stanno rompendo i coglioni i nomi non si risolve non si sa incertezza dubbio prendiamo il toro per le corna parliamo direttamente ad ausilio e marotta indichiamo la via due alternative per ruolo semplici già fatte chiare sulle quali secondo me insistere e sono tutti e quattro giocatori che se tu ne prendi due di questi quattro ti volti indietro dal finestrino e vedi la terraformazione di Venere cioè sei nel 4000 dopo Cristo a prendere questi giocatori ok iniziamo dal discorso attaccante attaccante due nomi per l'attacco a parte che bisognerà vedere il discorso Lukaku che de corso avrà non escludendo colpi di scena come vi ho detto nei giorni scorsi e tutto però siccome la situazione mi sembra anche abbastanza un po' tesa ancora ed è giusto premunirsi allora i nomi li faccio io il primo è Danny Namaso Danny Namaso del porto società molto attenta brava scafata a prendere giocatori semi sconosciuti a portarseli in casa e a farli valere decine di milioni poi nel corso degli anni Namaso è un giocatore giovane che ha che milita nelle principali categorie della nazionale inglese nelle giovanili è un giocatore che in tutte le serie in tutti i campionati in cui ha giocato ha fatto gol è un attaccante lavorabilissimo anche dal punto di vista tattico in base alle tue esigenze lo puoi far giocare con Lautaro lo puoi far giocare con Turam lo puoi far giocare con chi vuoi può fare la prima punta può fare la punta in appoggio ad un'altra è un colpo veramente che ci spendi poco io sono sicuro lo prendi all'inter fa il devasto cresce e tra due tre anni anche meno ti vale un bordello di soldi Danny Namaso del porto c'è anche proprio alla personalità allo sguardo del campione del giocatore che vuole emergere che può emergere che farebbe devasti ok altrimenti vuoi la roboanza mi vai su Sebastian Allaire e anche qui vi spiego perché molti sono scettici e dicono ma il Borussia non te lo dà è difficile partiamo da un presupposto è vero che l'inter è una squadra che raramente spende tanti soldi per i cartellini dei giocatori però è altrettanto vero che un po' secondo me ne spenderà perché gli incassi da una ana così ci sono e qualche giocatore devi prenderlo non puoi pensare non credo che l'inter prenda tutto a zero ancora un colpo se lo può permettere e non sono neanche d'accordo con chi dice che Allaire non viene via dal Borussia Dortmund perché il Borussia Dortmund è una società anche lei che ama lavorare con i giovani che ama mettere in vetrina i giovani per anche venderli a prezzi assurdi basta che vediate gli ultimi anni i vari Alland lo stesso Bellingham è una società che apprezza e ama lavorare con i giovani è una società che lì davanti in fase offensiva ha diversi giocatori giovani dietro Allaire da poter far giocare e avrebbe anche l'interesse per me a mettere un giovane volendo lì a fare il centro avanti Allaire è un giocatore che ormai la sua età ce l'ha il Borussia sa che o lo vende adesso o difficilmente su Allaire farà delle grandi plusvalenze dei grandi valori economici e Allaire può anche essere tentato in una seconda fase della sua carriera a giocare comunque nell'Inter che è una squadra internazionalmente riconosciuta che ha fatto la finale di Champions a provare un campionato come la Serie A che sebbene non sembra comunque il suo fascino ce l'ha quindi non chiudete totalmente la porta ad Allaire secondo me se l'Inter ci si mette su Allaire ci può arrivare e neanche a cifre astronomiche quindi per l'attacco i miei due nomi sono questi vuoi il giocatore giovane che non costa neanche tanto da portarti in casa e che al contempo ti unisce delle ottime prestazioni attuali ma anche una valorizzazione futura e un cespite che prendi oggi e che un domani ti può valere un sacco di soldi Danny Namaso del Porto vuoi invece il giocatore pronto, vuoi la garanzia, vuoi il bomber devastante Sebastiano Allaire, io andrei su uno di questi stringendo, andrei su uno di questi due nomi a seconda delle esigenze, delle preferenze e via discorrendo veniamo al discorso del portiere, anche qui due nomi molto semplice vuoi concederti una spesa che poi penso io sarebbe anche non eccessiva perché non è un giovanissimo e non è un giocatore che è sulle riviste più patinate del fare calcio io credo che con una cifra attorno alla decina di milioni, forse anche scarsa lavorabilissima inserendo anche dei giovani perché ti interfacci con un'altra squadra che ama lavorare con i giovani tu, Odisseas Vlacodimos, che è il primo nome che vi faccio tu se vuoi ti ci puoi arrivare senza problemi Odisseas Vlacodimos non è a mio avviso un portiere che vai dal Benfica ti chiedono 25 milioni di euro, attorno alla decina di milioni di euro stante l'età, stante la situazione, con qualche giovane inserito dentro ti ci puoi assolutamente organizzare e ti porti a casa un portiere di esperienza internazionale sicuro che ti può rimanere qualche anno, che non ti crea più problemi nel ruolo e che fa il suo tranquillamente altrimenti vuoi non spendere neanche quei soldi vuoi prendere un giocatore anche più giovane ma di sicuro a venire Bento Mateusz Krebski dell'Atletico Paranaense vi prego di andare a vedere le foto di Bento Mateusz Krebski e ditemi se questo non c'ha l'Inter tatuata nel volto questo è un portiere di grande fisicità di grande personalità di grande avvenire lo dico se l'Inter si porta a casa Bento si porta a casa un altro Alisson ma senza il patema d'animo di vederlo andare via dopo due anni perché quello lo vedi e quello c'ha l'interismo tatuato addosso quindi uno che ha quell'aspetto non andrà mai via te lo tieni in casa anche se vale 80-90 milioni perché resto a casa? perché io sono l'Inter esteticamente non mi è concesso di andare altrove perché io sono esteticamente l'interismo e non lo paghi tanto ovviamente lui credo sarebbe contentissimo di venire all'Inter e questi sono i miei nomi e vi faccio ragionare soprattutto sull'ipotesi di vedere i due più giovani assieme cioè l'Inter che chiude il mercato che chiude queste due situazioni perché poi comunque ci avresti magari il difensore a cui pensare così ma pensate se voi tra 10-15 giorni andate dall'Inter e gli chiedi come hai risolto la questione attaccante e portiere? ho preso ho preso Namaso e Bento Mateus Krebsky si apre un crepaccio spazio-temporale e tu hai accesso alla seconda stella e al 4000 dopo Cristo perché sono per me questi poi chi vuole le roboanze ma attenzione al discorso perché molti dicono eh ma tu coi giovani non puoi esagerare sbagliato sbagliato perché l'Inter facendo un mercato con parametri zero così svincolaggini è all'affannosa ricerca di uno scudetto che per esempio l'anno scorso non è arrivato è andato al Napoli è andato al Milan che sui giovani hanno lavorato molta attenzione non cadete più in questo tranello perché la storia deve insegnare non c'hai l'allenatore bravo coi giovani male vuol dire che non è un bravo allenatore no no tu coi giovani ci devi lavorare e un Inter che ti va secondo me su un Bento e su un Namaso fa calciomercato 4000 dopo Cristo vuoi concederti una roboanza magari fai Bento all'Air vuoi concederti due roboanze le fai bene ti fai Vlacodimos e All'Air che sono due che la Champions la pasteggiano nel quotidiano pasteggiano Champions che cosa fa Vlacodimos? pasteggio Champions questo fa è in Champions da quando andavo all'alberghiero altrimenti che è forse ancora più affascinante non vuoi spendere un cazzo? o poco? vuoi due giovani da valorizzarti tu? Namaso Bento Namaso Bento l'Inter compra chiude questo discorso punta e portiere con Namaso e Bento c'ha il mio 10 in pagella nei voti di mercato e c'ha la seconda stella tatuata sul petto ma anche facile ma anche facile ma anche facile in zaghi permettendo caro saluto grazie a tutti